Radio 105 Music and Fun Summer Radio 105 Music and Fun Summer Come state intanto? Molto bene grazie Voi siete abituati a stare qui tutta l'estate Qui c'è una vista meravigliosa Unica direi Diciamo che l'arrivo del tour di Radio 105 In qualche modo è l'apice anche di un'estate All'insegna del divertimento a Santa Margherita Ligure Sì è sicuramente una delle manifestazioni Diciamo più belle Più riuscite della stagione Ce ne saranno altre Già ce ne sono state Ma questo è il top proprio Del momento estivo di Santa Margherita Devo raccontare un nostro piccolo momento Io e Dario siamo andati a prendere un caffè Ad un bar qua di fronte La barista diceva Cavoli quest'anno è veramente bellissimo Qua a Santa Margherita Perché si vede che stanno organizzando Tante cose Erano felicissime di sapere che Qua a Radio 105 Noi di Radio 105 Siamo qua in spiaggia Con il nostro villaggio turistico Ma ci diceva che Tanti altri eventi sono stati Anche le Notte Bianche Tanto movimento insomma Qua a Santa Margherita Tanto movimento La Notte Bianca del primo settembre Sarà la fine poi della stagione estiva Quindi c'è ancora molto davanti A metà agosto c'è il Carnevale di Ferragosto Il Carnevale di Ferragosto E' una cosa particolare Che è unica Ma la gente si traveste veramente Come fosse un Carnevale Sì sì Tipo Venezia insomma Fantastico Carri Quello che vuoi Ma qui a Santa Margherita O in tutta la zona diciamo Santa Margherita Giriamo per tutta la città Con carri allegorici E maschi Che poi io volevo farvi una domanda Nel senso che Spesso e volentieri Nell'immaginario anche Collettivo Si pensa sempre a questi posti Soprattutto in Liguria Come posti che hanno Un'attrazione per la gente Di una certa età E forse un po' meno per i giovani In realtà noi ne abbiamo visti tanti In giro Anche ieri sera Il concerto di Dolce Nera Quindi c'è vita comunque C'è voglia di anche Promuovere degli eventi Per i giovani Ma sai Storicamente Santa Margherita Ha sempre avuto delle discoteche Molto molto importanti Il comodo di nord est Ma altre Quindi non è vera questa Come posso dire Immagine È un'immagine Di una città Per persone Diciamo Della terza età Assolutamente Non è così Anzi Tanti giovani Tanti giovani Tante famiglie Che peraltro Vedete in spiaggia Quindi tante persone Che hanno voglia di divertirsi E tutti gli avvenimenti Che organizziamo Li organizziamo Dalla faccia per bambini A tutte le facce di età Quindi Un sacco di bambini Tra l'altro Devo dire Tante famiglie Sì ma Io e Dario Credo anche tanti di noi Di Radio 105 Non siamo mai stati qua A Santa Margherita E quando siamo arrivati Veramente siamo rimasti No infatti male Però per fortuna Adesso siamo ospiti qua Sulla vostra bellissima spiaggia Infatti è una città Un paese Bellissimo Bellissimo Cioè siamo rimasti Bocca aperte Devo dire Sinceramente Bellissimo Quindi grazie Il sindaco sarà contento Di questa volta Salutiamolo Come si chiama il sindaco Roberto De Marchi Perfetto Ringraziamo anche lui Chiaramente per Questa nostra presenza Qui a Santa Margherita Ligure Che sia anche di buon auspicio Per le stati prossime Magari Ma facciamo il bis Il prossimo anno Assolutamente Siete d'accordo Siamo d'accordo D'accordo È una promessa Va bene Noi ci siamo Ok fantastico No Roberto Va bene Radio 105 Music and Fun Summer Tour Eccoci qua Continuiamo con la musica Sempre in diretta Fino alle 18 Qui da Santa Margherita Ligure Arrivano E 30 Seconds Mars Mars Grazie a tutti